Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Omicidio di Via del Ciclamino, oggi l'udienza per la richiesta di scarcerazione di Da Silva al Tribunale del Riesame. Intanto spunta una maglietta in mano alla procura. In appena tre mesi avevano compiuto almeno sette rapine nel Riminese. La squadra mobile ferma le scorribande di un gruppo di rapinatori seriali. Anche dopo la messa al bando i danni dell'amianto continuano a farsi sentire. I numeri dei tumori riconducibili all'amianto in provincia di Rimini. Nel fine settimana bilancio positivo per la MotoGP a Misano che farà il bis tra due settimane e per la festa del borgo tornata dopo sei anni di stop. L'omicidio di Via del Ciclamino, oggi al Tribunale del Riesame di Bologna c'è stata l'udienza per la richiesta di scarcerazione di Luis Da Silva. L'interrogatorio del 34enne senegalese in carcere da quasi due mesi con l'accusa di essere l'omicida di Pierina Paganelli si è concluso a metà pomeriggio. I giudici si sono riservati la decisione attesa entro domani e la giornata era cominciata con la notizia di nuovi elementi in mano alla procura di Rimini. La maglietta indossata dal presunto killer la sera dell'omicidio e un paio di occhiali da lavoro trasparenti. Gli inquirenti riminesi oggi sono arrivati davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Bologna con in mano nuovi elementi sull'omicidio di Pierina Paganelli per il quale Luis Da Silva è in carcere dal 16 luglio. Il 34enne senegalese è rimasto l'unico indagato a quasi un anno dal delitto della 78enne avvenuto il 3 ottobre scorso nel garage del condominio in via del ciclamino a Rimini. Presenti a Bologna il sostituto procuratore Daniele Paci che ha coordinato le indagini della squadra mobile diretta dal commissario capo Marco Masia e i legali di Da Silva, gli avvocati Riario Fabri e Andrea Guidi che si sono avvalsi della consulenza della psicologa forense Roberta Bruzzone. Per la squadra mobile la t-shirt sequestrata dopo l'arresto nell'armadietto della fabbrica in cui lavorava Da Silva su cui non ci sono tracce evidenti di sangue potrebbe corrispondere a quella che indossa l'uomo nel video di sorveglianza al centro dell'inchiesta. È grigio melange con una scritta sulla schiena come quelle fornite dal datore di lavoro a tutti i suoi operai. Stessa cosa per un paio di occhiali da lavoro con lenti trasparenti prelevati dalla scientifica. Tutti elementi che saranno la base della relazione definitiva della polizia scientifica di Roma. Altro elemento la perizia sui cellulari di Luis. Sarebbe emerso che la relazione sentimentale con Manuela Bianchi sarebbe proseguita anche dopo l'omicidio fino a dieci giorni prima dell'arresto. Gli investigatori avrebbero intercettato l'uomo il 7 luglio mentre lasciava davanti alla porta del proprio garage una bottiglia di vino vuota che lui e Manuela avrebbero consumato in un incontro clandestino. Lui l'avrebbe poi lasciata a terra davanti alla porta del garage per un giorno intero prima di recuperarla. Gli avvocati difensori del 34enne oltre a smentire che l'uomo del video sia da Silva hanno puntato anche sul fatto che nonostante un biglietto aereo aperto per il Senegal e parenti in Francia che avrebbero potuto ospitarlo non ha lasciato l'Italia pur sapendo di essere l'unico indagato. In appena tre mesi avevano compiuto almeno sette rapine nelle riminese. La squadra mobile è riuscita a mettere fine al scorribande. Uno dei due era già finito in manette nei giorni scorsi dopo aver rapinato un anziano. La rapina ai danni dell'ottantottenne strattonato e fatto cadere nel giardino della sua abitazione in zona via Praga il 29 agosto scorso per strappargli una catenina d'oro era solo l'ultimo di una serie di colpi messi a segno da una coppia di peruviani nel riminese. I due agivano anche in pieno giorno solitamente nelle zone ad alta densità di turisti come Marina Centro o sul lungomare usando sempre lo stesso modus operandi, dei veri e propri predatori seriali capaci di individuare e seguire in bicicletta le proprie vittime anche per diversi chilometri in attesa del momento in cui aggredirle di sorpresa per strappare catenine e monili in oro. Poi la rapida fuga sempre in bicicletta. Tra maggio e luglio la coppia è indiziata di almeno sette colpi. La squadra mobile è riuscita ad individuarli al termine di una indagine complessa sviluppata con l'acquisizione di decine di dichiarazioni di vittime e testimoni, riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e localizzazione degli indagati nei luoghi dove erano stati commessi reati. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del PM, ha riconosciuto la pericolosità dei due. Uno era già stato arrestato lo scorso 30 agosto dopo la violenta rapina ai danni dell'88enne. L'uomo stava cercando ospitalità da un connazionale. Il secondo indagato è stato invece individuato e arrestato grazie al pedinamento di una persona a lui vicina che ha inconsapevolmente condotto gli agenti al rapinatore. Ora sono entrambi nella casa circondariale di Rimini, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Messo al bando ormai 30 anni fa, l'amianto costituisce ancora un pericolo per la salute. Lo dicono i numeri riminesi sui tumori rari riconducibili all'esposizione a fibre di amianto. Vediamo. Un nemico silenzioso messo al bando nel 1994 ma che ancora determina l'insorgenza di gravi malattie in coloro che per esposizione professionale o ambientale hanno avuto contatti con le sue fibre. Dal 1996 a oggi sono 161 i casi di mesotelioma maligno legato all'esposizione all'amianto registrati in provincia di Rimini, di cui 97 di questi di natura professionale. I dati sono stati pubblicati nel rapporto il mesotelioma maligno in Emilia-Romagna e per quanto riguarda i tre settori a più alto rischio, il 13,9% dei casi riguarda i lavoratori delle edilizie e costruzioni, il 10% quelli delle manutenzioni ferroviarie e l'8,9% i metallmeccanici. Il ruolo delle amministrazioni locali, come previsto dalle linee guida del piano regionale amianto, sarebbe centrale nella definizione di una strategia per la mappatura completa dell'amianto ancora presente in provincia di Rimini, ma il progetto non è stato ancora integralmente attuato. Per gli ex esposti all'amianto è inoltre attivo gratuitamente l'ambulatorio amianto di Rimini dell'azienda OSL Romagna, dove si può attivare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Per accedere a questo servizio senza prescrizione medica è necessario l'invio di un modulo scritto, che è scaricabile dal sito a oslromagna.it Si è concluso ieri pomeriggio il fine settimana del Gran Premio della MotoGP a Misano, bilancio positivo sia per le presenze che per la gestione del traffico e ora si attende il BIS per una nuova data arrivata a stagione in corso. Tra giornate che, dicono i promotori, oltre ad aver fatto registrare un record di presenze al Misano World Circuit e ad aver portato la consueta visibilità mediatica per la riviera, hanno anche dato un'importante spinta al turismo di settembre grazie alle gare e al programma di eventi collaterali. Il piano di afflusso e deflusso dal circuito, gestito da un'ormai consolidata macchina operativa che vede la collaborazione tra forze dell'ordine, organizzatore privato e amministrazioni di Misano e comuni dimitrofi, ha funzionato permettendo di limitare i disagi alla circolazione sia per intensità che per durata. Nel tardo pomeriggio di ieri il traffico era di nuovo fluido e tra due settimane si replica. La tappa senza casa, che per motivi diversi non si è svolta né in India né in Kazakhstan, è stata assegnata sempre al circuito misanese come gran premio dell'Emilia, permettendo così alle scuderie di ottimizzare gli spostamenti. Dal 20 al 22 settembre quindi i riflettori della MotoGP saranno di nuovo accesi sulla riviera dei motori. E sempre nel fine settimana il borgo San Giuliano di Rimini ha ritrovato, dopo sei anni di stop, la sua tradizionale festa con un bilancio positivo, nonostante la pioggia che ha complicato parte dell'ultima serata, un evento che a partire dal titolo Taka Bilotz ha avuto come filo conduttore la musica e la storia dei locali riminesi. C'era molta attesa, questa era la ventiduesima edizione, dopo sei anni di stop imposto dalle varie vicende che conosciamo, non era facile riaggregarsi, siamo riusciti a ricompattare la squadra di circa 150 volontari, poi ce ne sono altri che tramite le associazioni di volontariato ci danno supporto, dai Carabinieri, Argentina per il Mondo. Quindi abbiamo una squadra quasi di 200 persone solo nella macchina operativa che c'è sul reto. Più di 60 artisti invece sono quelli che si sono alternati nei 10 punti spettacolo, un percorso che è andato da degli incontri a una rassegna cinematografica, a tanta musica dal vivo e questa è la ragione di questa festa della ventiduesima edizione che ha ritrovato Rimini, ha ritrovato il borgo qui a San Giuliano. Taka Bilotz siamo partiti da un personaggio tradizionale della storia degli anni 30, un personaggio realmente esistito ma anche un po' drammatizzato da Fellini che era questo Sante De Luca che era un suonatore di ordine di fisarmonica, di organetto che negli anni 30 animava l'inizio di questa nuova era turistica per Rimini. Sono più di 10 punti spettacolo che rappresentano un po' i tanti stili di musica e che hanno imperversato nelle notti riminesi, dallo swing, dal tango, dal jazz, andiamo a rockabilly, passiamo dagli anni 50-60 al British Invasion e tutta la parte del rock degli anni 70 per poi approdare la grande epopea delle discoteche, quindi gli anni 70, 80, 90, nomi che conosciamo ormai tutti, il Paradiso, il Blue Up, il Carnaby, il Bandiera Gialla e via discorrendo, li abbiamo proprio toccati con mano attraverso i loro protagonisti e in questi tre giorni l'abbiamo fatto suonando, suonando perché una delle caratteristiche della festa è di dedicare tanto alla musica dal vivo. E torniamo a raccontarvi iniziative solidali in vista dell'inizio della scuola. Torna per il secondo anno la campagna Lions Vaino Sospeso per garantire il diritto allo studio dei bambini che hanno famiglie in difficoltà economica. In prossimità dell'inizio della scuola torna per il secondo anno la campagna Zaino Sospeso promossa dal Lions Club di Riccione e sposata da tutti i Lions Club della zona B seconda circoscrizione in collaborazione con cinque cartoliberi riccionesi per su cui sono stati istituiti altrettanti punti di raccolta dove chi vuole può lasciare materiale scolastico per bambini in difficoltà. Volontari dei Lions Club del territorio hanno raccolto materiale scolastico presso l'ipermercato per il secondo anno consecutivo siamo qui al Befane Shopping Center per una corta di materiale solidale destinato ai bambini di famiglie in difficoltà. Il Lions International crede in questo service in modo particolare e si sta sviluppando anche a livello nazionale. Oggi noi Lions della zona B seconda circoscrizione di cui sono presidente siamo tutti presenti, tutti i club qui per aiutare e spingere questa iniziativa e renderla più conosciuta. Questo materiale che viene raccolto verrà distribuito tramite l'Emporio Solidale e le Caritas Parocchiali e verrà proprio destinato a quei bambini che hanno comunque diritto allo studio, che questa è la cosa più importante, di ricevere del materiale, gomme, quaderni, penne e quant'altro, tutto quello che è materiale scolastico. Ci sarà anche la prossima settimana, il 14 di settembre, nello stesso tipo di raccolta presso la Copperla Verde di Riccione. Questa sera dalle 20.35 su Icaro TV l'appuntamento del lunedì con Calcio.Basket. Nella parte dedicata al Rimini, reduce dal secondo stop interno di fila sabato sera col Pescara, il direttore sportivo della società Biancorsa Antonio Di Battista sarà ospite di Roberto Bonfantini e in collegamento Stefano Petracca, il presidente di Responsible, società a cui è stato affidato in gestione il centro sportivo della Gaiofana. Abbiamo anche tempo per dare uno sguardo al meteo. Dopo i rovesci di ieri sera, che però non hanno portato ancora un sostanziale abbassamento delle temperature, per domani una giornata con una mattina di cielo nuvoloso, nel pomeriggio la possibilità di qualche debole precipitazione, poi comunque schiarite. Temperature ancora sopra le medie stagionali, domani una massima di 28 gradi. Per quanto riguarda poi la tendenza anche per dopodomani, è quella di una giornata di cielo sereno, con una temperatura massima sostanzialmente stabile, 27 gradi. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.